salve a tutti e bentrovati sul mio canale in questo video vorrei mostrarvi come creare il trucco di avatar ma prima di cominciare con il tutorial vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanella così da non perdervi nessuna novità e trovare contenuti simili a questo ma non perdiamoci in chiacchiere inutili e sigla questo è l'occorrente che ci servirà per il trucco il tempo sarà di circa quattro ore livello difficoltà intermedio ed il costo medio comincerò con il detergere per bene la pelle poi avrò bisogno di una colla stick in particolar modo questa viola di elmer la passo per bene sulle mie sopracciglia in modo da farle aderire sulla pelle ed appiattirle bene così da riuscire ad annullarle nel modo migliore possibile applico poi della polvere di riso con un coton fiap stendo poi del lattice liquido ai lati del naso lo lascio asciugare e nel frattempo ammorbidisco con le mani dei pezzi di cera modellabile che andrò poi ad applicare ai lati del naso dove ho precedentemente messo il lattice liquido che nel frattempo asciugandosi farà da promotore di adesione per la cera da questo momento in poi saranno necessarie molta pazienza ed accuratezza nel riuscire a ritreare il naso per questo passaggio utilizzerò una spadola in metallo le dita e della vaselina che mi aiuterà a modellare bene la cera ripeto ci vorrà molta molta pazienza una volta aggiustati i laterali applicherò alta la cera al resto del naso una volta raggiunta la forma desiderata non mi resta che sfumare sfumare e sfumare fino a rendere la superficie liscia risultato finale passiamo quindi al colore in questo caso ho utilizzato un azzurro della Criolan gli acqua color che sono dei colori ad acqua l'ho passato per bene su tutto il viso per poi passare su collo e decoltè poi con una spugnetta e un acqua color verde acqua ho creato le zone di luce sul viso, collo e decoltè ho passato di nuovo la polvere di riso con degli ombretti poi blu scuro invece ho creato il contouring e quindi tutte le zone più scure con un eyeliner blu e con degli ombretti dello stesso colore ho disegnato le sopracciglia con un acqua color lilla ho disegnato il naso un po' di contouring su collo e decoltè ho preso poi un pennello sottile e un acqua color blu scuro per creare la texture e i disegni tipici degli abitanti di Pandora e poi faccio un'altra Grazie a tutti. Ho creato delle sfumature di colore sempre sulle tonalità del blu sugli occhi. Con un acqua color chiaro ho enfatizzato la forma mandorla degli occhi. Ho truccato le labbra con una matita nude. Per la parte centrale ho utilizzato una tinta più chiara, per i contorni una più scura e li ho poi sfumati tra loro. Con uno stuzzicadenti e un acqua color bianco ho creato tutti i puntini sul viso, collo e deboltè. Lentine colorate. Un po' di mascara. Ho legato poi per bene i capelli ed ho messo la parrucca. L'ho sistemata per bene. Ho indossato le orecchie finte. Ed ecco qui il risultato finale. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Grazie per la visione.